Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle The North Face Taraval, una scarpa da trekking che ormai sto utilizzando da diversi mesi, che mi è piaciuta, una scarpa da trekking come potete vedere qua abbiamo la versione maschile ma anche la versione femminile perché verrà Sara a raccontarvi come si è trovata con la versione femminile detto ciò, Sara vieni pure e iniziamo il video eccoci qua, iniziamo a parlare del peso della scarpa come sempre per la versione maschile il numero 42 pesa sui 370 grammi nel mio solito 47 stiamo più o meno un centinaio di grammi in più a singola scarpa numero invece femminile dovrebbe stare se non ricordiamo male più o meno 50-60 grammi in meno sul numero 42 tu hai un 36 giusto? 36 sfiora i 2,80 all'incirca iniziamo a parlare dalla suola, queste scarpe hanno la stessa identica suola ovvero abbiamo una surface control una suola che ci siamo trovati bene più o meno su qualsiasi tipo di terreno asciutto la tassellatura non è così profonda e sui terreni bagnati non tiene tanto però sull'asciutto alla fine single track, roccia, sterrato non abbiamo avuto praticamente nessun problema un particolare che ci tengo a farvi vedere soprattutto nella mia versione maschile è che poi di questo ne parliamo anche successivamente i particolari in questa scarpa lasciano un po' a desiderare come potete vedere qui ho un tassello che praticamente si è rotto e si sta staccando idem nell'altra scarpa vedremo poi continuando la recensione che i particolari di questa scarpa sono il punto negativo e qua inizio a segnalarvene uno anche nella versione femminile ho notato che c'è un tassello che si sta staccando quindi in realtà non è un problema solo di quella maschile ma anche quella femminile presenta un po' di problematiche a livello di intersuola abbiamo un drop da 6 mm tra l'avampiede e il tallone un'intersuola comunque molto morbido se si può camminare davvero tante tante ore noi ci abbiamo fatto insieme un trekking più o meno da una trentina di chilometri con quasi 2 mila di dislivello quindi non abbiamo avuto problemi di affaticamento e non si sentono nemmeno le rocce sotto bisogna un attimo fare attenzione perché soprattutto su quelle appuntite potrebbe sentirsi giusto un attimo ma dobbiamo proprio andare a prendere quella appuntita proprio dobbiamo cercarla quasi ecco perché in generale comunque non si sente e non affatica il piede alla lunga secondo me l'intersuola ci sta è fatto bene anche la versione femminile? versione femminile personalmente ho riscontrato un po' più di sensibilità nel senso che quando andavo a prendere delle rocce effettivamente sentivo un pochino la roccia sotto al piede e anche per quanto riguarda la sacchezza del piede personalmente ho sentito che non era propriamente al massimo però penso che comunque rispetto ad altre scarpe sia più che nella norma ecco e comunque nell'intersuola troviamo sempre l'innesto Vective che ci aiuta nella rullata a spingere ad avere un buon ritorno d'energia ma soprattutto ci aiuta a bilanciare il peso e a bilanciare i punti di pressione per evitare che noi possiamo andare a svirgolare a fare il solito classico movimento così col piede e che dire la tecnologia Vective l'abbiamo vista anche su altre scarpe sia da trail che da trekking ci è sempre piaciuta quindi anche in questo caso confermiamo il giudizio positivo assolutamente parliamo un attimo della tomaia iniziando da quella femminile perché le tomaie sono abbastanza diverse allora la tomaia femminile si presenta come traspirante infatti questa è una scarpa non impermeabile ok c'è una tramatura abbastanza fitta per ora mi sembra rimasta abbastanza integra quindi materiali approvati ovviamente nel mio 36 la tomaia è abbastanza risicata però appunto la traspirazione la traspirabilità non è affatto compromessa nel modello maschile invece la tomaia è completamente diversa i fori di traspirazione sono molto più larghi cioè si vedono proprio occhio nudo in modello femminile non si vedono praticamente probabilmente è dato anche dalla grandezza del piede ma non penso perché proprio vedere la struttura della tomaia è proprio un fatto in modo diverso io mi ci sono trovato bene è talmente traspirante che mi è capitato di trovare il calzino dentro sporco di sabbia quindi entrava anche la sabbia che dire da questo punto di vista la tomaia è veramente molto traspirante l'abbiamo usata in un trekking in cui abbiamo sudato 50 camicie talmente faceva caldo ma non abbiamo sudato all'interno della scarpa fortunatamente continuando a parlare della scarpa per quanto riguarda tutta la parte diciamo del mesopiede e del puntale abbiamo tutto un fascione protettivo che corre dal tallone alla punta della scarpa in entrambi i modelli che va a proteggerci molto dagli urti contro le rocce sia sul puntale perché il puntale è molto duro sia come dicevo sul laterale perché abbiamo tutto questo bel fascione che ci protegge lo stesso per il modello femminile molto approvato il puntale super protettivo un pochino meno forse la parte laterale però comunque va bene infine veniamo a parlare della parte posteriore del tallone il tallone non è tanto sostenitivo e costruito perché comunque come potete vedere si va a piegare abbastanza questo può essere un pro perché comunque alla lunga non fa affaticare i tendini d'achille comunque tutta la struttura tendinea del tallone è un contro se però pensiamo alla stabilità un tallone più strutturato sarebbe stato decisamente più sostenitivo anche su terreni particolarmente sconnessi io non ho mai avuto problemi di possibilità di prendermi storte probabilmente la tecnologia Vective in questo caso aiuta veramente tanto che dire è una scarpa fatta bene però non ci andrei in terreni particolarmente tecnici ma poi vediamo, ne parliamo dopo sul tipo di terreno dove è meglio utilizzare questa scarpa versione femminile? versione femminile ribadisco quello che ha detto Riccardo quindi non ho niente da aggiungere veniamo ora al punto negativo di queste scarpe che abbiamo riscontrato entrambi ovvero come dicevamo i dettagli come vi dicevo qua io ho un tassello che si è completamente rotto cioè proprio si sta letteralmente staccando ancora ci cammino 5-6 km si stacca Tomaia, Tomaia io ho qua tutta una parte che si sta completamente rompendo la Tomaia non solo abbiamo delle parti laterali anche dove anche qua si sta andando a logorare e comunque con queste scarpe sì ci abbiamo camminato tanto ma non è che ci abbiamo preso dentro rocce non è che ci abbiamo preso dentro qualcosa da dire l'abbiamo rotta cioè è quella che dovrebbe essere normale l'usura in questo caso è decisamente accentuata la versione femminile purtroppo non è da meno si vedrà benissimo sulla parte superiore della scarpa sul collarino come praticamente la scarpa si sia andata a rovinare e non solo sulla destra ma anche sulla sinistra quindi è una cosa proprio che riguarda i materiali e come Riccardo diceva questo purtroppo non riguarda solo un singolo punto ma anche in parte la Tomaia e altre rifiniture della scarpa stessa continuando quindi la descrizione allora per quanto riguarda l'allacciatura io non ho avuto nessun problema è un colore un po' strano vabbè però sappiamo che The North Face sui colori possono piacere e non piacere non ho avuto nessun tipo di problema con l'allacciatura tu? stessa cosa i lacci sono diversi nella versione maschile e femminile io ho apprezzato molto questi che sono un po' più sottili ma allo stesso tempo un po' più robusti posso dire e comunque l'allacciatura è molto facile e rimane nel tempo ecco sì diciamo che i lacci nella versione femminile sono tondi mentre questi qua nella versione maschile sono più piatti e diciamo che secondo me questo è decisamente più consigliato per quanto riguarda il trekking perché è anche più semplice da allacciare questi qua alla lunga sono lacci che potrebbero anche andare a rompersi non è successo ancora durante il test ma sono proprio i classici lacci che troviamo su qualsiasi tipo di scarpe in generale comunque l'allacciatura è fatta bene perché ha abbastanza punti ha in totale 6 punti dove passa all'interno del laccio quindi si riesce a stringere molto bene parlando di linguetta la linguetta è bella imbottita io non ho avuto nessun tipo di problema cioè io mi con la linguetta mi sono trovato bene so però a te che hai avuto qualche problema già per quanto sia comoda la linguetta perché queste scarpe sono molto imbottite tuttavia questa tende a spostarsi cioè durante le escursioni purtroppo tende a muoversi ad andare a scivolare di lato e questo fa sì che magari possiamo sentire qualche fastidio nonché dobbiamo fermarci e riallacciare le scarpe per andare a sistemare la linguetta infine parlando della soletta troviamo una soletta Ortolite abbiamo provato tante le solette Ortolite in tantissime altre scarpe anche qua ribadiamo Ortolite ci siamo trovati bene nessun problema si è tolta la scritta The North Face che c'è all'interno sul tallone ma è proprio quella è una scritta stampata quindi vabbè può capitare perciò in generale allora questa scarpa io mi sento di consigliarla perché comunque viene venduta sul sito di The North Face al prezzo di 120 euro secondo me in tanti negozi online la si può trovare anche a meno di 100 euro quindi come scarpa un po' per iniziare può andare assolutamente bene perché comunque mi immagino che una persona che inizia non vada a fare sentieri troppo complicati che potrebbe distruggere la scarpa in generale come vi dicevo sono scarpe che vanno bene su terreni abbastanza semplici quindi single track strade bianche strade di fondo valle qualche roccia ancora ancora ma giusto se troviamo qualche roccia lungo il percorso cioè non andiamo a cercare proprio i ghiaioni o sentieri completamente rocciosi almeno nella versione maschile nella versione femminile stessa cosa io ho apprezzato personalmente molto la flessibilità della suola la comodità il fatto che non sia rigida da un lato ci consente di non stancare il piede ma dall'altro lato ovviamente ne compromette l'uso in terreni tecnici quindi confermo questa scarpa va bene per un principiante per chi non va a cercare terreni troppo difficili e comunque è una scarpa comoda nel complesso quindi anche io mi sento di consigliarla perciò ragazzi innanzitutto vogliamo sapere se questo tipo di recensioni quindi avere un modello di scarpe che non devono per forza essere scarpe ma diciamo un modello di prodotto al maschile e al femminile può interessarvi fatecelo sapere nei commenti per noi è davvero molto importante detto ciò la recensione finisce qua nella speranza di essere stati esaurenti e esaustivi noi vi ringraziamo per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo ciao ciao